Al via anche Chiara Teocchi che passa dai campi di cross country e dai campi di ciclo cross al Gravel. Chiara, prima esperienza a Gravel, un campione italiano. Cosa ti aspetti? Ma sicuramente voglio divertirmi, sarà una gara secondo me con una cronometra di 90 km essendoci molto dislivello. Le avversarie sono pressoché stradiste e quindi cercherò di stare a ruota il più possibile e magari in un finale un po' più guidato cercherò di dirla mia. Che bicicletta utilizzerai? Come l'hai allestita? Userò una di verge, diciamo che mi metto a ridere perché tanto mi prendo in giro per la mia borsetta ma qua io ho il cibo che è sicuramente qualcosa che mi rassicura da una parte. Coperture? Coperture da 42, l'avanti monti un 40 e dietro una 51. Quindi una vera Gravel, in bocca al lupo. Grazie mille.